Ben ritrovati, andiamo a cominciare un nuovo appuntamento con spunti e spuntini e oggi torniamo a parlare di violenza di genere, anche perché ci stiamo chiedendo da settimane dopo le piazze gremite come dobbiamo continuare la battaglia contro le diverse forme che la violenza di genere assume. Il presidente Mattarella nei giorni scorsi ha detto dobbiamo rompere l'indignazione a intermittenza, dobbiamo debellare la continuità silenziosa della violenza di genere. Noi oggi ne vogliamo parlare con Loretta Gianni che è presidente del centro antiviolenza a pronto donna Onlus di Arezzo, bentornata. Grazie Gloria, ben trovata. Presidente possiamo senz'altro dire che l'omicidio di Giulia Cecchettin uccisa dal suo ex fidanzato rappresenta un po' un caso di violenza di genere spartiacque, perché cosa ci ha mostrato questa morte, cosa ci ha scosso tanto di questo caso? Sì, oggettivamente possiamo vedere sotto gli occhi di tutti che questo caso ha veramente avuto questa funzione, insomma, suo malgrado. Poiché ci siamo interrogati, poi sono state scritte anche tante cose, dette tante cose su questo femminicidio, quello che io penso è che è stato così impattante per tutte le persone, uomini, donne, ragazzi, ragazze, perché riguarda proprio due giovani, due ragazzi molto giovani e due italiani, per cui tutta una serie di pregiudizi, di stereotipi. Famiglie benestanti. Quindi, come dire, va a scardinare quel falso mito per cui le persone che non sono formate su questo tema, ovviamente, pensano che la violenza di genere viene agita in ceti sociali disagiati, dove c'è un problema culturale, ovviamente di basso livello culturale, economicamente disagiati, culture che non sono la nostra, e invece questo ci ha messo proprio davanti agli occhi in maniera brutale, purtroppo, quello che i centri antiviolenza dicono da decenni, ovvero sia che anche le giovani generazioni non sono esenti dagli stereotipi culturali che sono alla base della violenza di genere, che le donne che subiscono violenza di genere non sono donne sfortunate, che incappano nella persona, diciamo così, nell'uomo malato, che la violenza di genere, quindi, non è una patologia dell'uomo abusante, ma forse è una patologia della nostra società. Come dobbiamo leggere le parole del padre di Giulia Cecchettin, Gino, e anche della sorella? Sì, anche questo ha inciso molto, anche sulla attivazione delle persone, abbiamo visto proprio tante, tante persone scendere in piazza. Sullo scuotere proprio l'attenzione. Sì, ha attivato, ha attivato le coscienze e sicuramente c'era, come dire, uno spazio all'interno di quegli individui che hanno sentito il bisogno di partecipare attivamente e questo spazio era stato determinato anche dal lavoro che stiamo facendo, anche assieme, se vuoi, quello di stimolare la riflessione su queste tematiche, che far capire che non è un evento sporadico, che è strutturato, che ha bisogno di interventi pertanto continuativi. E quindi questo spazio, in questo spazio cosa c'è andato, cosa è entrato? È entrato lo stimolo grande di, prima di tutto, una ragazza molto giovane che, in poche parole, ha spazzato via tutti quei falsi miti. È stato il vostro bravo ragazzo e poi ha sottolineato che non è un mostro, l'abuser, il maltrattante, perché il mostro è qualcosa che è fuori dalla nostra concezione, è una cosa anormale. Invece sono persone che hanno un'immagine sociale normale molte volte, il più delle volte, anche persone con una professione riconosciuta socialmente, persone che hanno un livello di integrazione della società molto elevato, ma che invece all'interno delle quattro mura domestiche esercitano un potere che poi ha radici nella cultura patriarcale, che è profondamente radicata nella nostra società italiana e che appunto agisce questo potere in varie forme. Potere che riguarda dei ricatti emotivi, potere che riguarda ricatti economici, potere che riguarda l'intenzione di rendere la donna dipendente. Adesso cosa deve cambiare? Allora, lo stimolo grande che hanno dato, che ha dato la famiglia Cecchettin è un buon insight. Ecco, quello che noi dobbiamo cogliere da questo stimolo è di proseguire e di continuare, anche come dice il presidente Mattarella, a dare continuità all'impegno quotidiano di ciascuno di noi, perché veramente è fondamentale partire da piccoli cambiamenti, prima di tutto nel nostro modo di pensare, perché Cortellesi ce lo insegna nel suo monologo, peraltro scritto da Barte Zaghi, un uomo, un enigmista, quello famoso sulla declinazione al femminile dei termini che al maschile hanno un significato, al femminile diventano dispregiativi automaticamente. Ecco, quindi il modo di pensare, se viene modificato, produce in maniera automatica direi, cioè sempre con un impegno personale, ovviamente anche un cambiamento del comportamento, perché sono i piccoli comportamenti quotidiani, Egino Cecchettin lo ha detto proprio, io mi rivolgo ai maschi che cambino il loro modo di stare in relazione con gli altri uomini, che smettano per esempio di alimentare conversazioni dove le donne vengono umiliate anche da un punto di vista fisico, ma anche nei luoghi di lavoro, si mette l'accento su caratteristiche fisiche, ovviamente accentuando la negatività, una persona sovrappesa oppure troppo magra, oppure che non si trucca, oppure che si trucca troppo, insomma c'è sempre un buon motivo per denigrare una donna, ma all'interno di un luogo di lavoro si mette l'accento lì omettendo, censurando il suo valore professionale, e questo è proprio tipico della cultura patriarcale. Prima il Presidente accennava alle varie forme di dipendenza a cui si possono ritrovare le donne, noi ne abbiamo parlato in un altro nostro approfondimento, della violenza economica. Giulia Cecchettin si apprestava a laurearsi, a intraprendere il suo percorso professionale, indipendente, e quindi di libertà. Perché l'indipendenza femminile fa così tanto paura agli uomini? È una minaccia ovviamente, in un sistema di cultura dove si cerca e si fa in modo, perché non è solo all'interno della relazione, ovviamente gli ostacoli per le donne sono a tutti i livelli, a livelli contrattuali, per esempio nei luoghi di lavoro, è uscito proprio adesso la statistica, nel 2022 le donne occupate risultano essere solo il 40%, ma come sono occupate? Sono occupate con contratti part-time o a termine, il che poi produrrà pensioni di povertà. Per cui anche questo è un aspetto che in qualche maniera limita l'emancipazione, come fai a accendere un mutuo con un contratto part-time o a termine, nessuna banca te lo concede. E quindi, come dire, c'è proprio degli ostacoli oggettivi concreti all'emancipazione, alla libertà, anche economica. E non a caso credo che il femminicidio di Giulia Cecchettin sia stato proprio agito nel momento in cui lei doveva consegnare, alla mezzanotte doveva consegnare la tesi, e probabilmente è stata anche ingannata con l'intento di ritoccare qualche ultimo pezzetto della tesi stessa, perché lei aveva con sé il computer, alla mezzanotte lo doveva consegnare alla professoressa, era l'ultimo termine. E questo cosa ha rappresentato in un sistema dove, appunto, anche un ragazzo giovane voleva il potere, ha rappresentato, sanciva in qualche maniera il fatto che lei era più brava. Le donne spesso si trovano in difficoltà a mostrare la loro bravura, ma non perché hanno dei timori, loro hanno delle mancanze, oppure come qualcuno autorevole, ma su questo tema poco, come, insomma, un storico famoso, dice che mancano di aggressività. Non occorre l'aggressività per dimostrare la propria competenza, occorre mostrare la propria competenza. Però perché hanno difficoltà? Perché questa viene subito letta come adesso vuole fare la maestrina, oppure viene vista come una minaccia, appunto, per cui magari mostrando semplicemente se stesse vengono viste come una minaccia. Torniamo agli stereotipi. Si tornano agli stereotipi culturali, al motivo, per esempio, per cui una donna che è in carriera magari si trova a dover scegliere, a fare una scelta, come dire, anche non solo dettata dalle proprie esigenze, nel momento in cui ha una maternità e quindi spesso rinuncia alla carriera perché c'è questa costruzione sociale, questo stereotipo di genere nei confronti della donna. C'è una cosa che mi stupisce perché fa così tanta paura, la parola patriarcato, di cui invece si è molto scritto e parlato in queste settimane. Guarda, Gino Cecchettin, nell'intervista che ha rilasciato da Fabio Fazio, ha proprio tirato fuori anche un aspetto di sé molto umano in tanti momenti dell'intervista, ma in merito a questa parola, lui stesso dice che anche per lui la parola patriarcato non aveva quel significato, sì ne conoscevo il significato, ha detto, ma non quello profondo, non l'impatto che questa parola e quindi tutta la costruzione culturale che c'è attorno ha nella società e nella cultura che poi va a generare quell'humus dove attecchisce la violenza di genere. Per cui a volte, non lo so, forse la resistenza è proprio lì, nell'accettare che come uomo sei in quel sistema, per cui tu puoi anche non agire violenza, ma non puoi negare che come uomo te ne devi occupare e devi, come dire, in qualche modo prendere una posizione netta e Gino Cecchettin, rivolgendosi agli uomini, ha proprio chiesto questo, perché gli uomini sono in questo momento storico il motore del cambiamento. In chiusura, Presidente, vorrei ricordare il numero di telefono del pronto donna di Arezzo a cui ci si può rivolgere per le informazioni o in caso di bisogno di aiuto. Grazie anche per questa domanda, perché poi dobbiamo tornare sempre sul fatto che ad Arezzo c'è un centro antiviolenza che ha una storia trentennale, abbiamo compiuto 34 anni, che, come dire, c'è un team multidisciplinare formato su questa tematica e capace di ascoltare i racconti delle donne. Il numero è 0575 35 50 53. E grazie, Gloria, per averci permesso di mostrare anche quante operatrici giovani motivate sono all'interno della nostra associazione e quanto c'è, come dire, desiderio di dare il nostro contributo per aiutare le donne che subiscono violenza di genere. Grazie a voi per il vostro lavoro, grazie Presidente, noi ci prendiamo una pausa ora e torniamo tra pochissimo.